Il 94,9% degli utenti è soddisfatto del servizio offerto da Alia Multi Utility per la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città. Questo dato emerge dall'analisi di Customer Satisfaction realizzata per Alia Multi Utility dall'Istituto Piepoli che tramite interviste telefoniche a campioni rappresentativi degli utenti Alia ha effettuato una valutazione approfondita della percezione della qualità del servizio messo in campo nei 58 comuni in cui opera l'azienda. Il dato è in crescita rispetto al 90,4% registrato lo scorso anno e si distribuisce in modo omogeneo sui territori in cui opera l'azienda. In particolare, fra i titolari di utenze domestiche, soddisfazione viene espressa dal 94,9% dei cittadini in provincia di Firenze, dal 93,7% in provincia di Pistoia e dal 97% in provincia di Prato. Nel territorio che abbiamo indagato, quindi nelle province nelle quali abbiamo fatto le indagini e le interviste, sono emersi anche quest'anno livelli altissimi di attenzione rispetto al tema della sostenibilità e quindi anche della gestione, della buona gestione dell'ambiente. Ma sono i dati positivi e basta? No, c'è un'informazione in più che vi voglio condividere. Questa informazione nel primo anno, nel 2022, quindi questa attenzione nei confronti della sostenibilità e della gestione dell'ambiente era più bassa rispetto al secondo anno ed era nel secondo anno più bassa rispetto a quest'anno. Insomma, va a crescere. Dalla lettura dei dati emerge anche una richiesta di maggiori informazioni e canali contemporanei come quello del digitale verso cui l'azienda sta orientando l'organizzazione del lavoro e la modalità attraverso la quale intendiamo ingaggiare gli utenti. Alcuni servizi sono stati presentati nei giorni scorsi, alcune campagne informative in tal senso partiranno, altri servizi verranno raccontati e quindi noi ci auguriamo che la customer per il 2024 che racconteremo l'anno prossimo possa avere una crescita ulteriore dei dati di apprezzamento.